siamo tornati a plage guardate Kiko che va nell'acqua da solo bravo Kiko nell'acqua nell'acqua andiamo dai wow certo che per essere il metà di aprile guardate c'è pieno di gente ormai la spiaggia è popolata siamo con Kiko con la luna tommy la duscia e laggiù c'è anche giovanni con il campione d'albania young ciao giovanni wow Kiko che bello facciamo il bagnetto il bagnetto ma Kiko si sta inoltrando da solo guardate Kiko Kiko vuoi andare la dalla luna dai andiamo dai tra l'altro fa il movimento del nuoto Kiko con le zampette ma guarda che sorpresa che ci ha fatto Kiko bravo Kiko bravo eccolo eccolo bravo Kiko bravo bravo Kiko bravo ma quanto ci fai felici bravo Kikino bravo bravo nuota 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 dai andiamo dai ecco abbiamo anche young campione d'albania di bellezza che fa gli allenamenti col nuoto bravo bravo Kiko bravo Kiko gli va incontro bravo